Siamo contenti di questa bella serata, siamo contenti di aver conosciuto un uomo di valore, siamo contenti di aver conosciuto un imprenditore di valore, siamo contenti di aver conosciuto il presidente della Lazio Claudio Lotito e soprattutto perché egli affonda le sue radici nella nostra comunità essendo suo papà Francesco Lotito nato a Soveria Mannelli nel lontano gennaio del 1923. Grazie a tutti.